Allora, siamo abituati sui social a guardare soltanto chi sa meglio di noi, il benessere, diamo un'occhiata ai Ferragni e si diamo un'occhiata a tutti quelli che hanno le potenzialità economiche. Facciamoci un giro in una borgata di Roma, nella fattispecie a Villa Cordiani, nell'intorno della stazione Serenissima. Possiamo accorgerci che tra tanti negozi che prima erano affittati, con delle attività, anche se questa non è una zona prettamente commerciale, sono rimasti ben pochi. Ecco qui, cominciamo che, a parte questo piccolo ufficio, abbiamo questi negozi che era un caffè che andava molto bene una volta, in affitto. Abbiamo questi due negozi più avanti sulla sinistra che era un magazzino. Più avanti ancora nella via parallela c'era un grande panificio che funzionava veramente veramente bene, tre serrandi, 150 metri quadri di locale chiuso per crisi. Mostriamo ogni tanto anche qui sui social, non si sa mai qualcuno si sveglia.